ciao a tutti rivista numero 315 di taglio d'oro appena arrivata fresca fresca così ve la faccio vedere e ce la sfogliamo insieme allora per prima cosa come vedete ci sono due modelli quindi blusa e gonna e poi c'è la stessa versione però con degli spacchi in c'è uno scialle molto carino e poi sotto come sempre trovate i numeri identificativi dei modelli con le relative misure dei tessuti da utilizzare dietro ogni figurino trovate i cartamodelli vi consiglio di fare una fotocopia e poi di tagliarvi il cartamodello che volete sviluppare poi abbiamo due tagliar con pantalone molto carini e dietro come sempre i cartamodelli poi c'è un gilet lungo con dei tasconi e sotto un abito semplice e questo è un altro abito sempre simile poi abbiamo un completo con pantalone e maxi pull quindi un maglioncino a collo alto e poi la stessa versione quindi con le maniche a sbuffo e il polsino stretto e la stessa versione la vediamo nell'abito accanto quindi abbiamo il colletto un po più basso e poi l'abito lungo fino al ginocchio quindi in questo caso potete usare dei tessuti in maglina abbiamo due capi spalla uno in ecopellice l'altro sembra una fantasia piedi pull poi voi appunto potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto di quello che ritenete più opportuno e dietro abbiamo i cartamodelli poi abbiamo degli abiti molto carini sempre con tasconi e si riferiscono un po dalle maniche poi i modelli sono simili poi abbiamo una giacca modello kimono quindi con maniche molto larghe e corte e poi un bel cinturone per regalo quindi un incrocio tra un kimono e una vestaglia che comunque un capo molto attuale poi abbiamo dei bermuda è una blusa aderente quindi passiamo avanti abbiamo dei bellissimi completi uno con il corpino attaccato quindi è la gonna che vediamo in due versioni la prima in versione abito quindi c'è il corpino di sopra aderente che viene cucito insieme alla gonna e poi abbiamo la stessa gonna però in versione completo quindi due pezzi staccati con camicia sempre con manica sbuffo e i bottoncini davanti abbiamo una blusa con una gonna a portafoglio è un abito con il colletto alto e le maniche a tre quarti con vola poi abbiamo questa bellissima maglia con questo pantalone che c'è una pensa aperta quindi due pensa aperte davanti e lo stesso pantalone con queste due pensa aperte ritroviamo il pantalone lungo molto bello e anche la la blusa richiama la stessa pensa aperta poi abbiamo queste questi abiti con il collo alto uno c'ha uno spacco e ha le maniche corte l'altro invece ha le maniche lunghe per questo completo giacca e gonna e abbiamo due felpe una con i tasconi sopra il ginocchio e l'altro invece in versione maxi dress quindi è più lunga sempre col cappuccio versione abito abbiamo due tute anni ottanta che sono tornate molto di moda e quindi in versione invernale in questo caso perché questa è una rivista comunque che esce in questi in questo periodo quindi è invernale abbiamo le le ragazze vintage molto carina quindi in ogni rivista di taglio d'oro trovate anche dei figurini vintage che sono dei capi che comunque vanno sempre di moda insomma un vintage che non tramonta mai e dietro sempre i figurini i cartamodelli dei figurini abbiamo i figurini bimbo che trovate anche nelle riviste e queste sono di 4 da 48 anni quindi sono dei modelli che consigliano loro da fare intorno a quest'età per fare i cartamodelli dei bambini dovete solo prendere la misura del torace quindi in questo caso una sola misura e potete sviluppare tutti i cartamodelli dei bambini in questo caso questi sono quelli di questi figurini qua poi alla fine trovate tutte le l'indice con le lettere e il significato corrispondente quindi anche per questo video è tutto vi ricordo che sia il kit completo che le riviste le potete acquistare solo sul sito taglio d'oro quindi www.taglio d'oro.ch e le riviste sono trimestrali quindi escono ogni tre mesi ok e trovate comunque anche quelle precedenti le trovate sempre nel sito quindi se vi siete persi qualche rivista quindi i modelli sono tutti stupendi li farei tutti veramente veramente è una rivista bellissima quindi fatemi sapere se vi è piaciuta se pensate di acquistarla vi aspetto nei commenti non vedo l'ora di leggervi quindi un bacio grande da parte mia ringrazio sempre la taglio d'oro per la fiducia e un bacione a tutti ciao ciao